Sono ben dieci le comunità montane ancora presenti in Molise, la cui posizione da anni è quella di enti privi di un ruolo effettivo che la regione Molise ha posto in liquidazione ormai da tempo. Una gestione liquidatoria, tuttavia, che non accenna a vedere la fine e che è stata di recente prorogata sino al 31 dicembre 2025. Dieci comunità montane per quattro commissari liquidatori che andranno avanti sino alla fine del 2025. Un'eternità se si considerano gli anni già passati. La giunta regionale dal gruppo dei quattro ha depennato Carlo Perrella e inserito il sindaco di Cercepiccola Michele Nardacchione. Restano invece al loro posto confermati Giovan Carmine Mancini, consigliere comunale a Isernia, Pompilio Sciuli, sindaco di Pesco Pennataro e Alessandro Amoroso, sindaco di Petrella Tifernina. A ciascun commissario, ha stabilito la giunta, andranno 1850 euro lordi mensili omnicomprensivi. Parallelamente al moto perpetuo delle comunità montane, oggetto di una liquidazione infinita, da Palazzo Daimmo cercano di porre un riordino complessivo del sistema, attraverso l'istituzione dell'Agenzia regionale per la montagna e per lo sviluppo del sistema montano. Un provvedimento normativo che dovrebbe mettere in rete tutto il sistema montagna molisano, cercando di trarre dall'unione delle diverse realtà quella forza che è sempre mancata per far decollare stazioni sciistiche, vette, valli, grotte e tracciati, che invece adesso vanno avanti senza costrutto in ordine sparso. La legge in questione è arrivata in seconda commissione consigliare e il presidente Armandino De Gidio ha nominato come relatrice sul tema la consigliera Stefania Passarelli. Nelle prossime settimane verranno ascoltati gli operatori di settore, poi la legge passerà all'esame dell'aula, forse solo allora verrà messa la parola fine alle comunità montane che, in ogni caso, resteranno in vita sino alla notte di Capodanno del 2025.